Per noi un patrimonio è una cosa viva. Va curato tutti i giorni e ha bisogno di attenzioni particolari. Con alcuni serve sensibilità, con altri perseveranza, per farli crescere nel modo più adatto alle proprie esigenze, creando valore per il domani e proteggendolo nel tempo. Per questo i nostri consulenti sono sempre al tuo fianco, aiutandoti a dare forma ai tuoi progetti di vita, per favorire lo sviluppo della tua azienda con un piano su misura, valorizzando il tuo patrimonio finanziario, così come quello immobiliare, e accompagnandoti nelle scelte più importanti per il futuro della tua famiglia. Questo programma è offerto da Schröders. Bentornati su Blu Reti News, vediamo insieme le principali notizie della giornata. La nuova lettera UE alza l'allarme debito. Manovra, Confindustria attacca, non è espansiva. Il matrimonio tra Alitalia FS è pieno di rischi. Facebook, ricavi sotto le stime ma utili in crescita. Fideuram, ISPB e Allianz Bank sbancano nel reclutamento. Torna il forum del private banking. Un debito pubblico così elevato è anche una fonte di preoccupazione per l'area euro nel suo complesso. È questo uno dei passaggi chiave della nuova lettera della Commissione Europea che è arrivata al Ministero dell'Economia. L'istituzione guidata da Jean-Claude Juncker ha chiesto di fornire una relazione sui cosiddetti fattori rilevanti che possono giustificare un andamento del rapporto debito-PIL con una riduzione meno marcata di quella richiesta. La risposta deve essere trasmessa entro il prossimo 13 novembre. La manovra non è espansiva. È questo il monito che emerge dalle valutazioni del capo economista di Confindustria, Andrea Montanino. Per l'esperto, nel 2019 il PIL crescerà ben al di sotto dell'1%, un dato molto lontano dall'1,5% previsto dal governo. È in atto un rallentamento dell'economia europea che si ripercuote sull'economia nazionale. Il tema vero, ha concluso Montanino, è cosa accadrà il prossimo anno. A nostro giudizio l'effetto trascinamento del 2019 peggiorerà e la manovra non avrà effetti espansivi rilevanti. Il matrimonio non sa ancora da fare. L'accordo tra All'Italia e Ferrovie dello Stato sembra ancora lontano con la procedura di apertura delle offerte che potrebbe andare avanti per altri 7-8 mesi. Troppi paletti e le condizioni posse dal gruppo FS, che ha accettato il ruolo di alfiere del governo nella partita per il salvataggio della compagnia, con un'offerta vincolante presentata di recente. Tra le garanzie richieste c'è l'aggancio con un partner industriale. Una scelta per diluire gli oneri, più che per evitare uno sbarramento da parte dell'antitrust. Un terzo trimestre a tinte chiaroscure per Facebook. Il social network guidato da Mark Zuckerberg ha archiviato il periodo con un'utile operazione di 1,76 dollari, conto gli 1,49 dollari previsti dal mercato e rispetto a 1,59 dollari dello stesso periodo dell'anno. Tuttavia non sono stati centrati gli obiettivi sulla crescita degli utenti mensili e sui ricavi. Nel dettaglio, questi ultimi sono ammontati a 13,73 miliardi di dollari sotto la stima degli analisti, pari invece a 13,78. L'aumento del giro d'affari risulta il più basso da sei anni. Trend virtuoso nelle politiche di reclutamento delle reti a settembre, dove 8 competitor su 12 registrano un saldo netto positivo tra entrate uscite. Fideuram ISPB è il gruppo che registra l'incremento di organico più significativo. Per la società guidata dalla D Paolo Molesini si registrano 20 ingressi in più, mese su mese. Eccellente anche il risultato di Allianz Bank, che ha aumentato la forza distributiva di nove consulenti. Seguono Fineco con sei professionisti e Azimut e Banca Generali a pari merito con quattro consulenti. Le maggiori usciti mensili sono invece di Deutsche Bank Financial Advisors, che evidenzia un saldo negativo di 10 unità. Si rinnova l'appuntamento con il forum del private banking promosso da IPB. Milano e Palazzo Mezzanotte ospiteranno l'evento il prossimo 16 novembre. Nel corso della manifestazione, giunta alla quattordicesima edizione, saranno presentati i risultati di uno studio realizzato in collaborazione con Censis, che evidenzia il ruolo dei patrimoni delle famiglie private nello sviluppo dell'economia reale del Paese. Seguirà una tavola rotonda istituzionale che discuterà le evidenze emerse dalla ricerca sui rapporti tra patrimoni, investimenti e sviluppo economico. Seguiranno infine approfondimenti sui trend da digitalizzazione nel settore private. Il Consiglio del Giorno, offerto da finanzaoperativa.com e Massimo Zanetti. Fair value di 10 euro per Mediobanca dopo l'apertura in mattinata a 5,68. Positiva l'acquisizione della sussaliana The Bean Alliance, per 15 milioni di euro attraverso la quale il gruppo intende rafforzarsi in Asia. Ecco la migliore e la peggiore performance giornaliera nella categoria dei fondi comuni aperti retail disponibili in Italia, sulla base come sempre dell'ultima rilevazione disponibile del NAV. A guidare la classifica un prodotto di UBS, mentre ultima posizione per Thrive Needle. Qui da Blu Rating News è tutto, ci prendiamo una piccola pausa fino a venerdì. Come sempre, un buon investimento a tutti voi. Questo programma è offerto da Schröders.